Italiani protagonisti al Festival di Locarno, con i giganti di Bonifacio Angius in gara nel concorso internazionale e l'horror comedy, il mostro della cripta di Daniele Misischia. Beh, diciamo che i giganti ha diverse chiavi di lettura, un titolo che può essere inteso in diverse maniere, ma due principali. Una è quella che hai detto tu, cioè in realtà questi giganti sono degli umili molto piccoli oppure al contrario la loro estrema consapevolezza di aver perduto e di non aver più niente da chiedere alla vita, questa consapevolezza così estrema forse fa sì che tu sia veramente un gigante, perché la consapevolezza per un essere umano è una cosa molto importante. Come per l'opera prima di Misischia, anche stavolta a produrre ci sono i Manetti Bross. È un film a cui teniamo tantissimo, perché pur essendo il più fantasioso che abbiamo prodotto, parla di noi, che abbiamo realmente vissuto quegli anni, facendo con le telecamerine cortometraggio orrendi, commenta Antonio Manetti. Mostriamo una storia di quelle che il cinema italiano faceva e che ora non fa più. Lillo è stato felice di ritrovare i suoi anni Ottanta, nei quali consumavo film e fumetti, avevo la passione per la fantascienza, l'horror e tutto ciò che avventura. Tutti i toni che ho ritrovato in questo film. È morta una ragazza e era una mia amica. Che cosa stai dicendo Willis? Era legata. Come nel fumetto che hai disegnato. L'ha fatto davvero. Laggiù c'è una cripta. E dentro una cripta c'è un mostro. Ho bisogno d'aiuto. Andiamo. Oh, la musica la scelgo io.